E' in programma sabato 18 gennaio ad Agropoli la festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani d'Italia. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua undicesima edizione, si svolgerà nel centro cittadino di Agropoli a partire dalle ore 14 e 30. All'evento è prevista la partecipazione dei rappresentanti di circa 60 comandi di polizia locale della provincia di Salerno e di autorità civili e religiose. La manifestazione avrà inizio alle ore 14 e 30 con accoglienza in piazza Vittorio Veneto e sistemazione dei veicoli con la registrazione dei partecipanti. Dopodiché ci sarà l'esibizione degli sbandieratori delle majorette. Alle ore 15 e 30 si terrà la sfilata con gonfaloni per il centro cittadino fino al palazzo civico delle arti in via Pisacane. Alle ore 15 e 45 visita della mostra alla polizia locale ieri e oggi in Italia e dell'Antiquarium. Alle ore 17 la Santa Messa, presieduta da sua eccellenza a Monsignor Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, con partecipazione del coro polifonico Concordia Vocum. Alle ore 18 si terrà la benedizione dei veicoli e dei gonfaloni. Alle ore 18 e 30 presso l'aula consigliare si terrà il convegno sul tema la comunicazione e la polizia locale e cerimonia di premiazione dei comandi più meritevoli della provincia di Salerno. Alle ore 20 e 30 la sfilata dei veicoli di servizio per le vie del centro cittadino di Agropoli con lampeggianti accesi. Spettacolo pirotecnico presso il porto di Agropoli. Si tratta di una festa comprensoriale che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla polizia locale, quale presidio di legalità. Durante la stessa, tutte le auto di polizia locale saranno dislocate tra Piazza Vittorio Veneto e Via Patella. Parteciperanno alla manifestazione i diversi partner che a vario titolo collaborano con la polizia municipale.